Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo gameplay Questa volta siamo con un nuovo gioco Super Meat Boy E finalmente Questo è il mio secondo Credo, secondo gameplay Con la webcam Anzi, è una prima serie Che iniziamo con la webcam ovviamente Non so, credo che molti conosceranno questo gioco Se avete visto Dread Comunque lo conoscete bene questo gioco E conoscete il modo che fa incazzare Io non ci ho mai giocato È la prima volta che ci gioco Però all'inizio Credo che sia facile Ok, quello chi cazzo è? Oh mio dio Che cazzo di cance gli ha dato? The Forest Ok Prima missione Cosa dobbiamo fare? Cerchiamo di capire Ah ok Qui spiega i tasti Con Shift si corre Ok Perfetto Ah bene Ho capito I tasti Almeno i tasti iniziali Ok Possiamo passare avanti Ah ok Sì sì Sembra facile Ok Vabbè Questo sarebbe il tutorial In teoria Quindi dovrebbe essere Molto facile Ok Ok Perfetto Ok Abbiamo completato La nostra prima missione Sembra molto facile All'inizio Cioè Sembra facile Ah Pensavo che si moriva Si morisse Scusate Il congiuntivo Eh va bene Ho capito Mi ho fatto cadere 50 volte In un brutto posto Ok Faccio prima così Ora cosa dobbiamo fare Questo sembra Un po' più difficile Ok Abbiamo completato Quest'altra parte Vabbè Sembra abbastanza facile Almeno Il primo capitolo Di questo gioco Siamo di passare avanti Ok Ok Questa è la mia prima morte Seconda Terza Non so se ridere O dire qualcosa di brutto Aspetta E che cazzo ci vuole Smettila Ok Per adesso ci riusciremo Minchia Basta Ok Muoio Sempre Allo stesso Fottuto punto Non salta Cristo salta Ok Però salta Mi fa perdere Ti odio Ti odio da morire Ok Finalmente siamo riusciti Vediamo Da lì quante volte siamo morti Allora Corriamo qui Credo Proprio così Dobbiamo risolvere Queste cose Ok Abbiamo completato Anche questo livello Ok Qui sembra Abbastanza facile E abbiamo completato Anche questo pezzo Stiamo facendo le cose Molto veloci Non so O perché Sono io Diventato Subito Forte Oppure Non lo so Magia Dobbiamo volare Dove cazzo devo andare Aspetta Io non ho capito niente Ah sì Ok Ora sì Devo andare qua Che brutta morte Che ho fatto poi Madonna Che palle Ora morirò 50 volte Sempre allo stesso Fottuto Punto No dai Che palle Che palle Che palle Gesù Cristo Ah finalmente Ci sono riuscito Ho avuto anche A più Che bello E di Dio Che pensavo Ok Scendiamo di qua Madonna C'era un portale Lì credo Che è successo Ah no niente Credevo che Avessi perso All'improvviso Senza motivo Ti odio Ti odio Di più Di quanto Posso odiarti Tipo madre Ora perderemo Un'altra mezz'ora Qui Porco giusto Ok Ho completato Questa parte Finalmente Passiamo avanti Passiamo avanti Visto che siamo Comunque morti Pochi Ma Sono stato Veloce anche In questo livello Però non ho avuto A Oh mio Dio Non l'ho visto Oh mio Dio Sono morto Brutalmente No dai cavolo No perché Non mi salta Madonna Ci sono riuscito Non so come E' un miracolo Che ci sia riuscito Oh grazie Allora Cerchiamo Di Scendere Madonna L'ansia A questo livello No Dai Ma vaffanculo Dai che palle Sti dischi di merda Fallo scendere Ok ora Scendiamo Noi veloce Prima che mi ammazza Di nuovo Ok Madonna Mi sono scansato Una cosa Non so come C'è un disco Che vola Credo che Volato Solo io Madonna Il parkour Comunque potevo anche andare di qua Madonna Davvero il parkour Oh mio dio Mi dici Mi spieghi come faccio a fare Questo livello Credo che sia Meglio andare piano In questo Livello No cavolo All'ultimo secondo No Sono caduto Manuto Manuto Sei caduto Adesso Chiudi Aiuto No Che palle Che cagata Che hai fatto Oh mio dio Avevo fatto qualcosa di Ti odio Ti odio Ancora Facciamo le cose Con Con calma Ti odio Ancora di più Madonna Mi sono salvato Al culo Allora Dobbiamo stare calmi Calmi Al mio sangue Freddo Ok Madonna Il principesso Dammi un bacino Ok Perfetto Ok Per adesso Sta andando tutto Niente Stavo scherzando Madonna Madonna Ancora No cavolo Sono morto Da idiota Forse Se andiamo qui Ok Fino a qui Ci siamo Un po' Violento Questo Gio Mi diceva No Ok Sono salvo Ah Io preferisco La calma Ah L'ho completato Anche questa Parte Grazie Madonna Che culo E ora No è possibile Staparte No ti odio No ti odio Ancora di più Ti odio Ancora di più Gesù Madonna Mi sono visto Morto Credo di aver capito Sì No cavolo No Sono morto Da stupido No dai Che palle Però Odio Queste cose Vado C'ero riuscito No che palle Allora Devo stare calma E devo cliccare Meno la tastiera Che faccio Troppo rumore Mi sa E sicuramente Si sentirà Ok Ci sono riuscito Adesso Ora mi spieghi Come faccio Stavo per sbagliare Un momento Ok calma Ora corri Dai Sì finalmente Abbiamo salvato La principessina Madonna Abbiamo già sbloccato Il boss Che bella cosa Va bene ragazzi Dai Ci fermiamo adesso E se Questo episodio Vi è piaciuto E questo gioco Vi piace E volete Comunque io lo continua Lasciate un mi piace O un commento E nel prossimo episodio Sconficeremo Il primo boss Come avete visto In un episodio Abbiamo completato La Parecchi livelli Che ne sono Aspettate Che leggiamo Sono 20 livelli Sembra Facile il gioco Ma Credo che sia solo La prima parte E ci saranno Diversi mondi Probabilmente Cioè Diversi livelli Più che altro Dai ragazzi Ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti